Il Consiglio dei Ministri individua quattro aree abruzzesi da inserire all'interno del programma nazionale di riforma. Si tratta della Valfino, il Basso Sangro Trigno, la Valle del Giovenco, la Valle del Roveto e il Gran Sasso. Tre gli obiettivi da perseguire secondo una strategia regionale. Tutela del territorio, promozione della diversità culturale e il rilancio dello sviluppo. A tal proposito il Presidente della Regione Abruzzo ha incontrato i sindaci delle aree interessate per l'avvio dei progetti. Noi dobbiamo stabilire quali sono le priorità. O abbiamo per esempio durante una delle prime giunte regionali stabilito che la priorità numero uno dell'Abruzzo è la Fondo Valle Sangro. Così come la priorità numero uno della provincia di Teramo è la Valla del Fino. Più dobbiamo completare le grandi dorsali infrastrutturali sulle quali siamo all'opera. Io garantisco che nell'arco di questi 57 mesi che rimangono anche la Valfino verrà liberata dalla sua condizione di affanno, di sofferenza e di invalidità viabile. Le risorse non sono mai state un problema, annuncia D'Alfonso. Abbiamo 2 miliardi di euro a disposizione ma il vero obiettivo è mobilitarli al punto di produrre risorse di sviluppo pari a 10 miliardi di euro. Servono programmi ad hoc per spingere avanti la macchina dello sviluppo. Gli interventi sono sul sociale, sono sulla pubblica istruzione, sono sulla sanità, sono sulla viabilità. Poi io mi auguro che questo gruppo di sindaci e di comunità trova neanche ognuno separatamente un progetto. Vedete qui oggi siamo un ex convento che pochi, credo, pochi terramani conoscono. Allora questo è anche il senso di questi incontri, far dare la possibilità di dare un'immagine diversa. Noi abbiamo bisogno prima di tutto di una viabilità decente e degna di questo nome. Abbiamo delle industrie che esportino in tutta Europa, alcune di loro anche nel resto del mondo. Però noi siamo un comune della cosiddetta zona depressa dell'Abruzzo. Abbiamo bisogno di internet a alta velocità, abbiamo bisogno di collegamenti più efficienti, di strade che veramente funzionano, abbiamo bisogno di qualcuno che crede in noi. Noi abbiamo bisogno di risonare componenti, abbiamo bisogno di dire, Noi abbiamo bisogno di anche noi. Abbiamo bisogno di archivarmerga chords.